Abbiamo già messo avanti le mani specificando che le ulteriori risorse investite, circa 400.000 euro, verranno richieste a chi è responsabile di quanto è stato fatto e faremo partire delle contestazioni formali. Chiamati in causa dunque il genio civile che ha, diciamo così, vidimato la bonifica e al quale il sindaco ha chiesto spiegazioni e soprattutto oggi impute i costi aggiuntivi. Passi un ordigno bellico sfuggito al metal detector, passino due ordigni, ma ritrovamento di oltre 70 in due mesi, una trentina, solo a settembre, di bombe inesplose non può essere una casualità, soprattutto quando si sono già spesi due milioni e mezzo proprio per bonificare l'area dove l'amministrazione sta realizzando il più grande polmone verde della città, il Parco della Pace. Considerato che si arrivava fino a 5 metri di scavo per la bonifica, 60 centimetri vuol dire praticamente in superficie. E quindi evidentemente un metal detector oggi che lo rileva doveva rilevarlo anche allora. Evidentemente c'è stata qualche mancanza, non hanno saputo dare una risposta concreta e loro stessi si sono meravigliati di questa cosa. In attesa di capire di chi siano le responsabilità oggettive messe in moto gli ingranaggi legali e burocratici, restano gli ordigni ammassati oggi ancora nel Parco in via di realizzazione e da far brillare. Abbiamo però bisogno di una mano per far sì che queste bombe che vengono rinvenute devono essere fatte brillare evitando il blocco del cantiere perché quello sarebbe un danno veramente ben più grave della bonifica che non è stata completata correttamente.